Benvenuti a una nuova puntata di Dal Vivo. Nell'appuntamento di oggi siamo in collegamento con Serena Sinigaglia, ideatrice e direttrice dello spettacolo di cui ci parlerà oggi, intitolato El Nost Milan, un progetto triennale di arte partecipata ispirato all'omonima commedia di Carlo Bertolazzi, che debutterà stasera al Teatro Carcano con la seconda parte I Signori e sarà a teatro fino al 17 dicembre. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie di essere con noi oggi, le chiedo subito appunto di parlarci di come è nato questo progetto, l'idea di realizzarlo e a chi è rivolto. Dunque, l'ispirazione di questo progetto è già inserita nel nome, nel senso che è il Bertolazzi, quindi diciamo due parole sul Bertolazzi e su questa opera straordinaria. Bertolazzi è uno scrittore drammaturgo, scrisse El Nost Milan a fine 800 e lo mise in scena proprio al Teatro Carcano, perché il Teatro Carcano è uno dei teatri più antichi di Milano ed era un'opera verista, come era in voga nel tempo, però di grande verismo. Quindi cosa fece il Bertolazzi? Andò in giro per la Milano della povera gente e per la Milano degli Sciuri, detto in dialetto dei signori, visitò luoghi, incontrò persone e poi ne fece una sintesi in questa opera diciamo corale ed epica e quindi anche con una trasposizione poetica, come dal giornalismo alla poesia della scena. Da quest'opera abbiamo tratto ispirazione per fare un po' il medesimo percorso che fece il Bertolazzi per conoscere la propria città e poi provare a riraccontarla in scena e cioè siamo andati l'anno scorso in alcuni luoghi topici, che consideriamo topici della povertà, le docce pubbliche, le mense pubbliche, il pane quotidiano, insomma siamo andati in questi luoghi, abbiamo fatto esperienza e poi abbiamo cercato di tradurre l'esperienza vissuta dal vivo in scena. Quest'anno abbiamo fatto la stessa operazione diciamo drammaturgica, siamo andati a visitare luoghi topici della ricchezza, ne cito alcuni, la borsa, la scala, il ristorante stellato, gli alberghi di lusso estremo, insomma siamo andati a cercare i luoghi della grande ricchezza e abbiamo cercato di raccontarli in scena. È un progetto triennale, quindi il prossimo anno metteremo poi in scena proprio El Nost Milan. Questa è diciamo l'ispirazione e il tipo di lavoro che abbiamo affrontato. In scena ci sono 160, 170 credo, cittadini che partecipano ai laboratori annuali organizzati da Atir in collaborazione con la compagnia PEM, Proxima Res e Eco di fondo. Questi laboratori, quindi laboratori che coinvolgono tutta la cittadinanza perché abbiamo anziani, bambini, adolescenti, abbiamo persone con diverse abilità, abbiamo cittadini comuni, insomma c'è tutta l'ampia gamma di cittadini che abitano Milano. Questi laboratori quindi di teatro integrato vanno in uno dei luoghi scelti, compiono la loro esperienza e accompagnati da drammaturghi, da registi, da attori, professionisti ed educatori, professionisti, traducono poi in scena la loro esperienza e io da regista cucio tutti questi frammenti di esperienza in un unico spettacolo che in qualche modo va verso la sintesi della rappresentazione. Come diceva lei, questo spettacolo vede la partecipazione dei cittadini a dei laboratori di teatro sul territorio. Ci spieghi un po' più nello specifico la scelta di realizzare questi laboratori e come si sono svolti? La scelta di portare l'esperienza teatrale nella città, nei territori è una scelta che la compagnia Atir fa da molto tempo, perché il lavoro sul territorio è un lavoro che richiede durata, non lo puoi improvvisare in pochi istanti, quindi faccia conto che sono almeno vent'anni che operiamo su tutto il territorio di Milano proponendo laboratori teatrali. La ragione di questa vocazione, questa propensione a portare l'esperienza teatrale tra le persone è la convinzione, la consapevolezza che oggi il teatro non è soltanto lo spettacolo che le persone, il pubblico possono scegliere di andare a vedere alla sera. Il teatro può essere uno strumento prezioso accanto a quelli più istituzionali, quindi quelli delle scienze educative e mediche, il teatro può essere uno strumento laico importantissimo per lavorare sulla qualità di relazione tra gli individui, quindi per migliorare la qualità dello stare, del benessere, della vita individuale e di conseguenza di relazione tra individui, è uno strumento potentissimo di integrazione sociale, per quello si chiama teatro integrato, perché integra le persone tra loro e le coinvolge nel raccontarsi e in questo caso anche nel raccontare la propria condizione e la propria qualità di vita nella città di Milano, perché i cittadini di Milano sono e quindi si viene anche a creare questo specchio molto potente, molto forte di una città che si racconta alla città, perché poi il pubblico sono cittadini come i cittadini che sono presenti sulla scena. Dato che stasera ci sarà il debutto di questo spettacolo che come diceva lei racconta la città di Milano, che riscontro e che ritorno ci si aspetta dagli spettatori, dai cittadini che verranno ad assistere a questo spettacolo? Io spero come l'anno scorso che sia un momento di grande festa e di riconoscimento di una cittadinanza comune, quindi la gioia di sentirsi parte di un luogo. Le narrazioni condivise sono questo, sono luoghi metafisici che ci fanno sentire meno soli e ci rinsegnano il senso del pubblico, pubblico tra virgolette, della res pubblica. Io spero che accada questo, credo che ci sono tutti gli ingredienti per che accada, visto la potenza di un coro di 160 persone così diverse, eterogene tra loro, ma così rappresentative della vita e dell'humus della città di Milano, come attori e attrici e consapevoli che vogliono essere lì a incontrare Milano e a raccontarsi. Prima di salutarci ricordiamo a chiunque appunto fosse interessato ad andare a vedere lo spettacolo, volesse comunque saperne di più, di visitare il sito ufficiale del Teatro Carcano. Io la ringrazio per aver partecipato a questo collegamento e le auguro un buon proseguimento di lavoro. Grazie, grazie mille.